Good morning, anche se direi proprio buonasera, adesso proprio buonasera, perché sono praticamente le 6.35, ma purtroppo per cause non mie non sono riuscito a fare il resto report, questo è uno dei report che ho fatto più tardi, il record massimo ho raggiunto l'estate scorsa, mi pare con uno alla circa mezzanotte, non vorrei errare. Però comunque, sì, mister, mi c'è subito la luce perché non si vede nulla, purtroppo, mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's January 4, 2022, faccio una correzione sull'anno perché ieri e l'altro ieri ho sbagliato, ho detto 2021, mentre ovviamente mi correggo, è 2022, 2022, it's Wednesday, no, Tuesday in Naples, 57, fine, and around 14 Celsius, and this means that non è quella giornata veramente, 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 veramente mite, o almeno, sempre per quella che è, la mia percezione, non sento così tanto il freddo, invito sempre a vedere il mio video sul freddo, un pensiero che ho fatto, le pratiche che utilizzo per combattere, e che non mi consentono di soffrirlo come lo soffrono magari a maggior parte delle persone, metto sempre il link in descrizione o nella scremata finale, poi credo che separo sempre il video sul pensiero della video del report, come da inizio anno, anyway, non posso farle vedere la finestra che è troppo sera, comunque, assicuro che, today, we don't have, absolutely, once again, per la quarta volta consecutiva, non abbiamo avuto those beautiful blue skies and golden sunshine, e quindi, vabbè, ormai che dire, è sera inoltrata, quindi, spero che per la giornata di domani li avremo, finalmente, perché gennaio si è aperto proprio male, quattro giorni consecutivi senza sole, totalmente nuvoloso, I said this So, from the mythical window, with the clarity of the curtain, diciamo, oscuro, ovviamente, è sera, è tutto chiuso, la finestra è chiusa, ma comunque è un po' più illuminata, quindi comunque leggermente è più bella, anche se il tempo è oscuro, and it's a green roller shooter, ovviamente, come sempre, è inutile dirlo con enfati, visto il tempo, Poi avvero, di questi tempi, per quasi tutto dicembre, inizi di gennaio, dalla Befana, diciamo, non abbiamo those beautiful blue skies and golden sunshine, ma abbiamo those beautiful, giant, magical, and golden, and golden, and white balls, and objects from the Christmas pine tree, che, appunto, non saranno grandi come, belli come those beautiful blue skies and golden sunshine, ma che possono sostituirli degnamente, un saluto anche da the Tadar mythical window, with the white curtain and the green roller shooter, and finally, from my mythical keyboard, Yamadigix, 640, IPG, 625, Eva, a great day, him, all the people, with all of the channel, the reports, si, un saluto veramente a tutti, come sto dicendo, in questi giorni, all'inizio dell'anno, mi raccomando, il video sui pensieri lo carico separatamente da questo, però, in questo caso, non so se ce la faccio a farlo, perché già è tardi, quindi avviso nel caso, ma nel caso, non ce la faccio a farlo, credo che inserisco, comunque, il preview, di un pezzo, che, l'arancia meccanica, sempre che, altro pezzo interpretato, e che, appunto, caricherò separatamente, quindi, se non faccio il video sui pensieri, cerco, comunque, almeno, di caricare il preview, quest'altro pezzo, l'arancia meccanica, che credo di caricare tra qualche ora, almeno spero, nel caso, lo carico domani. So again, have a great day, him, all these people, and everyone too. Grazie.